Tutto a posto, tutto a posto, con tutto a posto a me e a te, allora tutto a posto, tutto a posto, spero lo stesso di te, boi, basta e boi. Perché l'informatore è già prima dal dottore, sono già da tre ore nella sala d'aspetto, tu mi passi davanti e non mi porti rispetto, mi dici pure scusa, tu mi aspetta il dottore, e io ti dico prego perché sono un signore, ma se dopo sei ore sono ancora nel mio posto, avrei guadagnato per accattare tutto sul posto. Bravissimo!